Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori! E quest'oggi siamo qui con il nuovo recap di come sta andando un pochettino la CVL Ragazzi, ma prima di iniziare, qui sotto in descrizione c'è il link della mia Amazon Wishlist Se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino, io ne sono molto molto onorato Inoltre c'è il bellissimo sito di Ko-fi, dove potete fare una donazione singola o a cadenza mensile Se chiedete voi il pezzo, se chiedete voi tutto, direi che è molto molto onesto Ma oltre a parlare di ciò, signori, quest'oggi andiamo a vedere un paio di replay In più ci facciamo anche un attacchino che abbiamo pronto con il secondo account Perché regà, non ho avuto tempo di registrare in queste giornate Quindi ho deciso di fare un piccolo recap veloce degli attacchi che abbiamo già fatto Compreso anche l'attacco che andremo a vedere subitissimo con questo account Allora, andiamo subito nella mappa Abbiamo attaccato il numero 3 perché abbiamo deciso di scalare un pochettino Regà, visto che stiamo trovando ovviamente sempre avversari molto molto più equipaggiati Tra virgolette con TH alti rispetto ai nostri Abbiamo deciso di scalare un pochettino per provare a vedere varie combinazioni E magari vincere perché come vedete le prime giornate sono andate un po' La prima giornata l'avete vista sul canale, se non l'avete vista regà la trovate O in descrizione o nelle schede consigliate a fine video o comunque sul canale Andatela a vedere regà La seconda e la terza giornata le andremo a vedere tra pochissimo Ma prima volevo andare a vedere regà l'attacco di oggi Perché come sapete io di solito ho sempre portato attacchi con draghi elettrici Ma non è l'unico modo in cui io so attaccare Ovviamente so attaccare anche di terra È logico E siccome da PC ultimamente fare gli attacchi con i draghi elettrici non mi riusciva più di tanto bene Poi vedrete anche per quale motivo visto che ho failato nelle scorse giornate Ho deciso di fare questo attacchino di terra con delle truppe Con una combinazione che ho portato anche sul mio canale Quindi regà andatela a vedere Vi raccomando non vi perdete i video perché ci stanno delle combo Che secondo me sono veramente veramente molto molto buone Tra cui questa qui che adesso vi mostrerò Ma vi invito inoltre ad iscrivervi e ad attivare la campanellina Se non l'avete ancora fatto regà così rimanete aggiornati su tutti i video che verranno pubblicati Allora andiamo a vedere subitissimo la nostra combo La combo che abbiamo utilizzato Abbiamo utilizzato 6 guardiane delle selve Che regà fanno il panico Fanno male, squagliano le mura come niente 16 valkyrie regà che fanno il panico anche loro E ben 6 streghe Ovviamente tutte quante maxate con la pozzoncina Perché non le abbiamo ancora maxed Almeno non tutte le cose Abbiamo maxed le guardiane delle selve Se non sbaglio E ci mancava qualche livello Un po' di livelli Un paio di livelli delle streghe E mi pare 3-4 livelli delle valkyrie Comunque vabbè regà In ogni caso abbiamo utilizzato la pozzoncina Ce le siamo maxate Ci siamo maxate gli eroi E abbiamo fatto un attacchino Che secondo me merita davvero molto Andiamo a vedere subitissimo il replay insieme Allora ovviamente non lo velocizzerò regà Perché così ce lo vediamo bene bene tutto quanto E poi ci facciamo il secondo attacchino In tranquillità insieme Ho messo una piccola valkyrie qui Per pulire un pochettino la zona laterale In modo che le altre truppe non girassero troppo da questo lato Ho sparato proprio a manetta a manetta Tutte le guardiane valkyrie dietro e dietro streghe Con gli eroi regà E soprattutto mi sono tenuto da parte Il dirigibile per mandarlo verso il centro del villaggio Con i super goblin Con i super goblin che fanno Fanno veramente male Infatti come vedete Il super dirigibile è quasi arrivato al centro Non c'è andato Però i super goblin regà dritti Su il municipio artiglieri aquila Hanno fatto il panico Il panico hanno detonato Tutto quanto al centro del villaggio Ci sono rimaste talmente tante truppe Ancora tutte le abilità degli eroi A parte quella del sorvegliante ovviamente Da ancora utilizzare E regà l'attacco diciamo che stava avvolgendo bene Guardate qua le streghe Quanti milioni di scheletrini hanno attivato Anche se poi sono esplosi Ma vabbè regà è normale I scheletrini hanno una vita insignificante Però nella massa fanno mucchio E aiutano moltissimo Infatti vedete c'è regà Belle le streghe io le adoro Sono tra l'altro tra le mie truppe preferite Scrivetemi qui sotto nei commenti Anche voi Qual è la vostra truppa preferita Perché so curioso regà So curioso Onestamente io Tra le mie preferite Troviamo le streghe Ovviamente gli eroi La mia preferita è la regina Ma ormai Presumo che lo sapete Comunque al 100% Ce lo siamo portati a casa Molto molto easy E pulito regà Scrivetemelo qua sotto Così magari ci confrontiamo un pochettino E poi a me piacciono molto Anche i super sgherri I super sgherri fanno il panico Fanno veramente veramente molto male Andiamo a vedere un attimino Velocemente il recap Delle giornate precedenti Dei fail che ho fatto esagerati E poi andiamo a farci l'attacchino Con il secondo account In questa giornata Partiamo dalla guerra numero 2 regà La guerra numero 2 Mi è stato detto di attaccare il 6 Di scalare un pochettino Purtroppo l'abbiamo persa lo stesso Però ci abbiamo provato Ho fatto un semi fail Perché diciamo che Ho fatto soltanto 2 stelle Potevo tranquillamente farne 3 Sì assolutamente Sì magari si attaccavo di terra Sicuramente le avrei fatte Si attaccavo d'aria Come ho fatto Magari un po' meglio Potevo comunque farle Purtroppo mi è andata un po' male Un po' male Perché regà Non siamo riusciti a fare 3 stelle Perché i draghi Qui in questa zona Come vedete Aspetta mettiamo un per due Che sennò vanno troppo veloci Questa zona sono completamente esplosi Tutti Tutti Cioè sono andati su un municipio E poi sono implosi male Non so da Da cosa Da ovviamente gli archi x Dalle difese Da qualsiasi difesa Che aveva il nemico Però era Veramente il panico Ce l'hanno distrutti In mezzo Un anno secondo Siamo fermati Con un 76% Purtroppo Non siamo andati Più avanti di quello Però vabbè Regà Due stelle ce le accolliamo Nel senso Non è un problema Una stella È già un po' Un po' Più un problema E veniamo Esattamente Alla giornata Numero 3 Signori Dove il vostro caro Ciris Ha fatto un attacco No di merda De più 73% Una stella Regà Fail assoluto E questo è quello Che mi ha fatto Di Ok basta attaccare Che i draghi attacchiamo da terra Perché Sappiamo farlo E possiamo fare Molto 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 più male E infatti Così è stato Draghi elettrici La merda Più totale In questo caso Non riesco a capire Che dal pc Come vi ho detto In altri video Magari Non riesco ad attaccare Velocemente Quindi Se Vedete che Magari qualche volta Non Feliamo qualche attacco Comprendete La difficoltà Nell'attaccare Per me Almeno Parlo dal pc Con mouse e tastiera È un po' Complicatino Ma mi sto organizzando Anche per questo Regà Ho trovato L'applicazione Giusta Che utilizzano Tutti I streamer Tutti I youtuber Che fanno Clash of Clans Mi sto Semplicemente Organizzando Con il mio Ipad Un pochettino Bene Per vedere Il tutto E vedere Come sistemarlo Al meglio In modo che Rimanga la stessa Qualità Full screen Perché non mi va Che ci siano Le bande nere Quindi sto Vedendo un attimo Come posso fare Come posso organizzare Tutto quanto In quel modo Regà Attaccheremo Con il touch screen Voi vedrete in diretta Sul mio pc La registrazione Dello schermo Sarà perfetto E sarà molto più facile Ovviamente Attaccare In quel modo Ma basta parlare Troppo Perché regà Stiamo a di lunga Troppo Andiamo a vedere L'attacco Fail Assoluto Io ho messo Due draghetti Qui E volevo puntare Sull'artiglieri Aquila Come al solito Regà Questa tecnica L'ho utilizzata Più e più volte Ma ha sempre funzionato Anche stavolta Inizialmente Aveva funzionato Perché l'abbiamo distrutta Ci ho appiazzato I nostri amici Draghetti Tutti quanti All'interno Qui Sperando Che andavano A fare Il panico E invece Regà Purtroppo Al municipio Non ci sono Nemmeno Arrivati Mettiamo Salentato Cioè qua Vedete Dopo pochi Pochi secondi Dall'inizio Del nostro attacco Il municipio È rimasto Con uno sputo Di vita Cioè proprio Uno sputo Regà Uno sputo Minuscolo Bastava un colpettino Anche del sorvegliante Penso che l'avrebbe Buttato giù Tranquillamente Ma le nostre truppe Sono esplose Completamente C'era rimasto Questo draghetto La regina Qua in basso Che comunque Non sarebbe mai andata Sul municipio Purtroppo Perché aveva iniziato A prendere Il giro A largo E a fare il giro Di tutto quanto Il villaggio E purtroppo Ci siamo fermati Con Una percentuale Del 73% 72% Qualcosa del genere Il re barbaro Poteva fare poco Perché per ora Che arrivava Regà al centro Sarebbe esploso male E infatti Così è stato 73% Una stella Mega fail Ovviamente Regà Voi direte Ma perché ci stai A far vedere I video Gli attacchi Dove faili Perché voglio essere Più che onesto Voglio far vedere Tutto Questa è TV verità Tra virgolette Vi devo far vedere Tutti quanti gli attacchi Perché se no Sarebbe troppo facile Far vedere Soltanto gli attacchi Che mi riescono bene Quindi In questo caso Diciamo Abbiamo fatto due fail Un attacchino Buono Di terra Mi sono preparato Le truppe Per i prossimi attacchi Che continuerò Presumo A farle di terra A meno che Non cambi il villaggio A seconda di Quello che devo attaccare Adesso Loggerò Subitissimo Con il secondo account Così ci andiamo a fare Un bell'attacchino Anche lì Vi faccio vedere Anche un replay Di una giornata scorsa E abbiamo fatto Un attacchino Not bad Not bad Bene signori Eccoci qui Loggati Con il secondo account Andiamo a fare Anche un rinforzino Che così poi ci facciamo L'attacco E volevo farvi vedere Non ricordo Se era la giornata 2 O la giornata 3 Che abbiamo fatto Un attacchino Not bad Con questo account Ovviamente Io ero Il numero 10 In questo caso Non mi ricordo Chi ho attaccato Fammi vedere Il 13 Ok eccolo qua E allora Mi hanno detto Di scalare di 2 Di 2 Ho scalato di 3 Perché questo era già attaccato In realtà E questo È il replay Dell'attacchino Regà Il villaggio Non era niente Di esagerato Ovviamente Con draghi elettrici Si poteva fare Tranquillamente Regà Era un municipio Sotto noi Quindi comunque Era relativamente Non troppo complicato Da attaccare Infatti Diciamo che l'attacco È girato abbastanza liscio È andato abbastanza liscio Qui abbiamo congelato Un attimo La situation Se no L'artiglieri aquila Faceva il panico Distrutta Regà Quella lì Diciamo che l'attacco È andato abbastanza bene Anche se le truppe qui Ci sono praticamente Esplose Tutte Tutte perché erano state gelate Dai golem Di ghiaccio Che avevano loro Nel castello del clan E poi sono state colpite Malamente Da tutte le altre Difese Però Ovviamente Avevamo ancora I reali Avevamo una gelo La regina Con i curatori dietro Comunque all'ottanta Il re barbara all'ottanta Con ancora l'abilità Da utilizzare Quindi regà Cioè Facilissimo Il nostro bel sorvegliante Ci ha buttato giù La torre inferno E il castello del clan Peccato per la seconda Non ci è riuscito Però va bene Ragazzi Avevamo altri due eroi Full vita Quasi praticamente Quindi c'è Era palese Palese Che avremmo fatto Un cento per cento Così molto molto pulito Direi che Regà Cioè stava Era onesto Da farvi vedere Non mi è dispiaciuto Come attacco I reali Ci hanno aiutato tantissimo Regà I reali sono molto Molto importanti Ovviamente La parte Del Utilizzare le pozioni Per i reali E potenziarli E averli maxati Anche se non sono potenziati È molto buono Se vi state dedicando Al potenziamento Di altre Di altre strutture Ovviamente Dovete potenziare Le difese Dovete potenziare I muri Dovete potenziare Gli accampamenti Qualsiasi cosa Regà Voi vogliate potenziare Ovviamente Il re barbaro E il re barbaro I vari eroi La regina E tutto Non li potete potenziare Perché sennò Vi bloccano Un muratore In quel caso Se utilizzate la pozione Comunque Li avete maxati Intanto Potete Portarvi avanti Con gli altri miglioramenti Poi quando avete Magari Un momento morto Che non potete mettere A A aumentare Che ne so Una difesa Per un qualsiasi motivo Potete semplicemente Migliorare Gli eroi O comunque Aspetta Magari Le CVL Vi prendete Due bei Libricini O due bei Martelli Degli eroi I martelli Non i libricini Due bei martelli Degli eroi Che regà Fanno veramente Il loro Sporco Lavoro Quindi Ci portano Subitissimo Senza spiegare Né risorse Né tempo A livello successivo I nostri eroi Direi Molto molto Pulido Comunque Signori Andiamo alla giornata Numero 4 Andiamo a fare L'attacchino Con questo Account Allora Allora Io sono sempre Al numero 10 Dovrei scalare Di 1 O di 2 A seconda di Quale Penso che sia Più fattibile Da fare Tre stelle Ovviamente Questo ragazzo Secondo me Lo spacchiamo Malamente Vediamo Quest'altro Quest'altro Anche Comunque Abbastanza Semplicino Diciamo che C'ha tutte le Torre inferno Qui è una pecca Perché basta Una piccola Gello E le congelate Tutte Quindi Non ha molto Senso Questo villaggio Però io direi Di scalare Soltanto di 1 Attacchiamo Questo qui 2 Torre inferno Molto vicine Singole Buono Perché queste Le gelamo Come niente E una Multipla C'è sta Secondo me Questo è un attacchino Che si può fare In tranquillità Non voglio parlare Troppo presto Perché sono sicuro Che tanto Da pc Andrò a failare Male Mi auguro di no Però No Andiamo Ci proviamo Attiviamo Ovviamente La polsoncina Degli eroi Così le abbiamo Maxati Mettiamo I nostri Soliti Draghetti Anche se Qui Adesso è un problema Perché c'è La Scaglia pietre Che potrebbe darci fastidio Quindi io ce ne metto Un paio Facciamo così E uno Ce lo piazziamo Di qua Giusto per pulire Un pochettino Addietro Per non Per perdere Troppo tempo Dopo Scaglia pietre Praticamente Distrutta Ok Ottimo Abbiamo pulito Un pochettino La zona Laterale Direi che possiamo Procedere Al piazza C'è tutti i restanti Draghi Al centro Vai con gli eroi Velocemente Così come se non ci fossero Domani E via Con le prime due furie Prime due furie Le spariamo dirette Congeliamo questa qui E poi Procediamo di nuovo Con altre due furiette Belle belle Di prepotenza Siamo verso il centro Del villaggio Attiviamo la Bila del sorbighiante Andiamo a gelare Questo Qui Qui abbiamo Piazzato anche male In realtà Se la piazzo così La prossima Congeliamo Perfetto Entrambe Le torri infernali E anche La difesa aerea Top Riga Top Ricongeliamo di nuovo Perché se no Madonna Mi è cascato Ho mescliccato Ho cliccato due volte Non va bene Però Tanto comunque Le abbiamo buttate giù Tutte quante L'attacco Diciamo che È riuscito Perfetto Preciso Non ci sono stati Troppi intoppi Ovviamente Speriamo di riuscire A pulire Tutto il restante Ma ci abbiamo Vabbè Gli eroi Tutti ancora in vita Compresa la campionessa La regina Che tra poco È full vita E maxata Ovviamente Per il TH Che ho Attacco Preciso Pulito Anche molto semplice In realtà Da fare Però è andato tutto Come doveva andare Quindi perfetto Raga Io sto contento Così E niente Signori Che dire Ci siamo Relogati Con il primo account Vi invito A lasciare Ovviamente Un bel like Di supporto E un commento Con scritto Cosa ne pensate Se secondo voi Devo continuare Ad attaccare Con le truppe di terra Visto che Comunque Mi ci trovo molto bene Questa combinazione De truppe È veramente forte Veramente folle Se non avete visto il video Vi ricordo che lo trovate Sul canale O nelle schede A fine video Non lo so bene Se mi ricordo Di aggiungerlo Però comunque Sta sul canale Vi invito A iscrivervi Tutti quanti Che è importantissimo Vi ringrazio tantissimo Per tutti quelli Che stanno arrivando E state iscrivi In tanti E io sono Felicissimo Di questo Sono felicissimo Di questo E ovviamente Attivate la campanellina Per rimanere sempre Aggiornati Sui nuovi video In modo che non ve li perdete E se volete Potete seguirmi anche su Instagram Ogni tanto pubblico Qualche storia Riguardante il canale Riguardante un po' Di aggiornamenti E soprattutto Pubblico ogni volta La storia Quando esce un video Così è sicuro Che chiunque mi segue lì Il video Non se lo perde Assolutamente Io vi invito Inoltre A commentare Questo video Con scritto Cosa ne pensate Di questi attacchi Dei fail Che ho fatto Che sono veramente Vergognosi E di tutto il resto A condividere Il video Con i vostri amici Con chi vi pare Perché più siamo Meglio Piedaciris E' tutto Un salutone Bella raga Ciao